Il principe ranocchio Siamo già al terzo livello di autocertificazione Ormai stiamo provando a sconfiggere il virus rincogliolendolo a livello burocranico Non avrei mai immaginato che un giorno avrei vietato ai miei genitori di uscire di casa Io comunque sono ottimista Le cose dei cinesi durano sempre poco Genova a 102 anni guarisce dal coronavirus L'Inps ricorrerà in Cassazione Dopo la quarantena saranno tre le categorie a rapida ripresa Il dietologo, lo psicologo e l'avvocato divorzista Mi ha chiamato la banca Gli ho risposto Andrà tutto bene Dopo l'ultima certificazione il virus lascia l'Italia e dichiara Qui non si può lavorare in pace Volevo dire una cosa che al postino che stamattina ha messo le bollette da pagare nella mia cassetta Devi stare a casa Se siete d'accordo con me, facciamo causa a tutti contro Branco Che per l'oroscopo del 2020 aveva detto Circondatevi di tante persone e siate positivi Che santa Che santa Che per l'oroscopo del 2020 aveva detto